Roberto Speranza, che tipo di sinistra vuole contribuire a costruire Articolo 1? Una sinistra aperta, larga, plurale, che parte dai problemi reali dei cittadini, in modo particolare abbia un'attenzione per i più deboli, per chi è rimasto indietro, per chi viene nel disagio. Io credo che la sinistra e il centrosinistra devono essere questo, invece in questi anni troppo spesso siamo stati dalla parte di chi vinceva, dalla parte di Marchionne e di Briatore, e mai dalla parte di chi lavora in una fabbrica, di chi vive nel disagio, di chi non ha un lavoro, di chi è pensionato e ha pochi soldi con cui vivere. Una sinistra e un centrosinistra che ricominciano a partire dai più deboli, a partire da chi è in difficoltà. Questo è il nostro orizzonte. Ma lei esclude un'ipotesi di collaborazione in futuro? Adesso in Sicilia in particolare siamo ormai quasi alla vigilia delle elezioni regionali, una collaborazione con il Partito Democratico? Io penso che bisogna discutere di merito, bisogna discutere di programmi, di proposte. Se il PD continua a dire viva il Jobs Act, viva la buona scuola, viva le trivelle, diventa complicato. Se il PD cambia rotta, per me il PD non sarà mai un nemico, non sarà mai un avversario, sarà sempre un interlocutore. Però è chiaro che oggi il PD ha dato segnali sbagliati, in controtendenza rispetto agli obiettivi che dovevamo avere come grande forza di centrosinistra. Per cui disponibili a ragionare a partire dai programmi. Se si rovescia la piramide e si parte dal merito, noi siamo disponibili. Per oggi ci sono delle differenze vere. Renzi dice che il Jobs Act è la cosa migliore che è stata fatta in questi anni. Noi vogliamo ripristinare invece le garanzie tolte dell'articolo 18. Renzi ha fatto la buona scuola. Noi pensiamo che sia stato un errore. Vorremmo provare a correggere gli errori della buona scuola che hanno spiazzato tanti insegnanti e docenti e studenti di questo nostro paese. Ancora c'è stato un referendum sulle trivelle. La nostra opinione è che bisogna insistere con le energie rinnovabili. Renzi invece dice viva in qualche modo le trivelle. Io penso che questo sia un errore. Per cui discutiamo di merito. Sul merito si può trovare una sintesi. La presenza Crocetta come la commenta in Sicilia? Ma guardi, io penso anche qui che non bisogna discutere sulle persone. A me interessa sinceramente poco. Proviamo a mettere al centro un'agenda. Proviamo a rovesciare la piramide. Non partiamo dai nomi ma partiamo dall'orizzonte possibile che può costruire un centro-sinistra in una regione che ha ancora più bisogno di uguaglianza. Quel che è vero a livello nazionale, cioè che bisogna mettere al centro la lotta contro le disuguaglianze, è particolarmente vero in Sicilia. Allora partiamo dai valori, partiamo dalle idee, partiamo dal programma e poi ci misureremo. A partire da una consapevolezza che c'è una domanda enorme di un nuovo centro-sinistra nel nostro paese e anche in Sicilia. Tiziana Russo, come procederà l'attività di Articolo 1 a Sciacca? La giornata odierna segna l'inizio del vostro lavoro che certamente prevede delle tappe. Sì, intanto partirà una campagna di tesseramento a Sciacca come in tutta Italia perché Articolo 1 si sta costituendo in questi mesi in tutta Italia e quindi partirà la campagna di tesseramento e insieme alla campagna di tesseramento naturalmente moltissime iniziative volte proprio alla divulgazione del movimento e anche soprattutto alla trattazione di argomenti importanti che poi sono gli argomenti che hanno determinato la fuoriuscita dal Partito Democratico in questi mesi di moltissimi di noi. Ricordiamo quali sono state le principali motivazioni per le quali voi avete compiuto questa scelta? Il Partito Democratico negli ultimi mesi era diventato un partito di uno solo come si può vedere anche in questi giorni dal comportamento del segretario e non era un partito nel quale soprattutto potevano trovare istanze, soluzioni e problemi che diventavano sempre più incompatibili con moltissimi di noi. Cominciamo dai problemi del lavoro, siamo partiti con l'abolizione dell'articolo 18 tema che ha segnato certamente una fierita nella larga parte di noi naturalmente che segna e continua a segnare così l'allontanamento della nostra società proprio dalla politica. Lo vediamo anche con i populismi che avanzano non solo in Italia ma anche in Europa e questo perché non c'è più rispondenza tra la politica e le istanze, i bisogni veri dell'Italia ma anche dell'altra parte d'Europa che abbiamo. Sui temi della politica locale c'era qualcosa che vi divideva dal gruppo dirigente del PD di Sciacca? Non è un problema di divisione di personale, di gruppi dirigenti da parte di altri gruppi dirigenti. Qua parliamo di politica, di temi di politica e dunque su questo anche a Sciacca vi è stata una normale direi scissione. Alcuni di voi, certamente anche se durante la campagna elettorale il movimento non è stato ancora costituito alcuni di voi hanno manifestato un'attenzione verso la proposta di Mizzica e del candidato sindaco Termine. Già sono trascorsi alcuni mesi dalla campagna elettorale. Qual è il vostro primo giudizio sull'operato dell'amministrazione Valenti? Allora, intanto dall'insediamento del sindaco Valenti è trascorso appena un mese, circa un mese. Dunque in questo periodo trovo assolutamente prematuro esprimere un giudizio che possa essere un giudizio basato su un ragionamento diciamo concreto. Noi abbiamo tutto l'interesse di osservare ciò che accade e di essere presenti anche per vedere se e quanto dichiarato in campagna elettorale intanto viene rispettato. E poi saremo lì a proporre quanto è nel programma di articolo 1 anche per le questioni locali laddove troveremo, insomma, e ce ne sono temi da affrontare a Sciacca, ce ne sono moltissimi. Ne abbiamo parlato in questi mesi di campagna elettorale, dalla questione delle terme, alla questione dell'acqua, alla questione dell'ospedale che è un tema centrale anche nell'intendimento di articolo 1. Noi abbiamo affrontato la questione dell'ospedale che versa e continua a versare in una situazione critica. In questo anche il comune di Sciacca deve svolgere un ruolo praticamente. Poi io direi di fare particolare attenzione anche in questi mesi al decoro di questa città perché anche laddove non ci sono risorse economiche io credo che mantenere un decoro alto fa di questa città una città particolarmente interessante per i turisti ma il decoro deve essere rispettato anche in una situazione di crisi economica che è quella che viene prospettata in televisione dall'amministrazione comunale.